Lunedì 30 settembre riapriranno le piscine e le naia, ripartirà l'intera attività agonistica e in questo fine settimana Open Day, direttore, si torna finalmente a poter offrire alla città di Pescara, all'Abruzzo, questo importante impianto. Le attività agonistiche, abbiamo dietro alle nostre spalle, il pala-palla a nuoto, sono già ripartite il 23, proprio per accontentare il settore agonistico di Palla a Nuoto, che poi l'A2 in maniera particolare, che ha il campionato imminente. Il 30 parte tutto, così come avevamo previsto, la tempistica che avevamo programmato è stata mantenuta, riportiamo le naia al servizio della città e dell'Abruzzo, ma anche dell'Italia, perché poi abbiamo degli eventi importanti anche di italiani come Meeting, questa è la cosa che abbiamo mantenuto e che poi i cittadini venendo possono verificare. Abbiamo messo a punto quello che erano, per esempio, le certificazioni per le caldaie, per l'impianto elettrico, per quello che è il CP, cioè le norme antincendio. Poi abbiamo fatto anche quelle cose che non erano state fatte e che erano prescritte dall'ASL, mi riferisco ai cambi d'aria dell'UTA e mi riferisco alla bonifica dei piccioni, perché l'impianto del pala-palla a nuoto in maniera particolare era imbalso dai piccioni con il guano su tutte le scale. Il Pescara-palla a nuoto tornerà a giocare alle naia, già si sta allenando alle naia, già da lunedì che hanno ricominciato gli allenamenti con il mister Malara, che è molto felice e contento di poter dare seguito a quello che è uno dei vanti dei Pescara, ma dell'Abruzzo, che è la palla a nuoto.